Una settimana dedicata ai cocktail e al bere, meno ma meglio e responsabilmente, valorizzando ingredienti di qualità. Da oggi fino al 4 luglio in scena sull'Ario la quarta edizione della Como Lake Cocktail Week, che coinvolge i 30 migliori bar lariani. L'evento, patrocinato dai comuni di Como e Cernobbio, da Confindustria e Confcommercio, si snoda in un percorso multisensoriale tra hotel di lusso, storici street bar e ristoranti stellati, per raccontare i segreti di barman e chef nelle più belle location affacciate sul lago. Il tema 2023 è Ticket to, dal lago di Como al mondo e viceversa, è un invito a scoprire il territorio, secondo una visione sempre più internazionale, come destinazione di alto livello del settore business e lifestyle. I barman che partecipano alla competizione dovranno creare un nuovo cocktail d'autore ispirato al tema e per questo avranno a disposizione una selezione dei migliori spirits alcolici e analcolici che offre il mercato. Il cocktail potrà essere abbinato a un piatto, un finger food, una tartina dolce o salata. L'obiettivo del festival è quello di educare le persone a bere in modo responsabile e con qualità e rafforzare le sinergie sul territorio attraverso la creatività e la sperimentazione che nasce dietro al bancone di un bar. Grazie a tutti.